I pazienti Covid-19 positivi asintomatici o paucisintomatici con raffreddore e nirite non fragili o immunodepressi non necessitano di ricovero e vanno seguiti a domicilio. Chiusa l'emergenza, l'assessorato regionale alla salute e l'agenzia sanitaria regionale hanno reso note le raccomandazioni ad interim per il contrasto alla diffusione di SARS-CoV-2 in ambiente ospedaliero. Abbiamo superficializzato l'attenzione al Covid-19 per i pazienti non fragili, mentre per i fragili rimangono le stesse precauzioni che avevamo deliberato tempo addietro. E non solo. Perché se voi vi ricordate le ultime linee guida dicevano che ogni 15 giorni, ogni 20 giorni, ogni 30 giorni gli operatori sanitari devono essere sottoposti a dei tamponi Covid-19. Noi abbiamo eliminato questa cosa dicendo che siano sottoposti a dei tamponi Covid-19 esclusivamente se vi sono le caratteristiche ben precise, tipo contatto con Covid-19 o avuta malattia. Modificate anche l'organizzazione all'utilizzo delle strutture Covid-19. Adesso tutti i malati Covid-19 che verranno ricoverati sono a carico dell'unità operativa accettante. Mi spiego. Se uno viene ricoverato per fare un qualsiasi intervento chirurgico e si scopre casualmente che ha il Covid-19, questo andrà in area Covid-19 ma a carico di chirurghi, non a carico di un pool di medici dell'area Covid-19. L'assessore Veri ha poi annunciato la pubblicazione dell'avviso per la formazione di un elenco di medici disponibili a far parte di un nucleo per i controlli delle prestazioni erogate dalle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate. Questo serve perché è già stabilito da una legge regionale e non ancora avevamo questo elenco, questo numero di professionisti. Adesso attraverso questo bando, questa possibilità di reclutamento andremo a istituire un elenco di professionisti, di medici, che saranno attivi su tutto il territorio per quanto riguarda questa finalità importante di verifica e controllo delle prestazioni. La remunerazione delle prestazioni, specie nel privato, dipenderà ora dalle valutazioni del nucleo e questo è un gran passo in avanti nella valutazione della proprietà e qualità del servizio sanitario.